Come una bomba atomica senza una rampa di lancio è praticamente innocua, così il virus tipo coronavirus insediato nel campione mondiale di scatarrate può distruggere il mondo. Fortunatamente il mio comune ha deciso di dotare tutti o quasi di una mascherina di pezzo. Ma sarò in grado di fermare lo scatarratore? Nel dubbio eseguo un test con strumentazione di ultima generazione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!